Allora, eccoci puntualissimi in base al nostro palinsesto con l'appuntamento di Penne e Piume, lo spazio all'opinionismo che ha oggi venerdì ospite Riccardo De Gennaro. Buongiorno Riccardo. Ciao Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il venerdì lo dedichiamo da un po' di tempo a una sorta di riassunto dei temi della settimana e ce n'è, devo dire, questa settimana su cui riflettere. Anche se stamattina su tutti i giornali è partito praticamente questo toto sondaggi su percentuali vari e non so se hai dato un'occhiata sia a proposito delle comunali, quindi delle amministrative delle principali città, sia a proposito delle politiche. C'è il Sole 24 Ore che riporta una tabella piuttosto precisa che parla appunto di un PD che va avanti mentre un Movimento 5 Stelle che incalza e stacca quindi tutto il centro-destra. Una situazione che invece non è proprio così precisa che parla di un avanzamento degli outsider, quindi dei magistris piuttosto che raggi, di una tenuta sostanziale del PD anche un po' oltre quello che si potesse immaginare. Ma insomma questo sarà argomento magari di approfondimenti che faremo la prossima settimana. Adesso a te la parola invece per le tue scelte di argomento. Sì, ho letto anch'io questi sondaggi, però sai che i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Dicono che la Raggi è in vantaggio a Roma e Sala a Milano, poi sono le due cose che ci interessano di più. La Raggi non la considero un outsider, secondo me è quella che è la maggiore possibilità di vittoria. Però tutto viene spazzato via dalla notte di Marco Pannella, che comunque è stato un politico di razza che forse non avremo più, perché vediamo la differenza tra la sua levatura e quella dei politici di oggi. Lui si è spostato nel corso della sua vita, che ha attraversato parecchie generazioni di elettori, tra l'altro, poi ci sono stati molti Pannella, si è spostato forse a destra, però non ha mai mollato temi importanti, quei temi dei diritti civili, della legalizzazione delle droghe leggere, dei problemi delle carceri, dell'autanasia. Quindi vorrei trovare un uomo politico di destra, cosiddetto di destra, che è stato anche alleato di Berlusconi, che mantenga alto la guardia su questi temi qui e non si occupi soltanto di migrazione o di problemi, come Salvini e altri, o parlando per slogan. Pannella ha sempre parlato chiaro, ha sempre articolato il suo discorso, tanto è vero che ce lo ricordiamo soprattutto per la sua arte oratoria, molto fluente, molto diversa da quella degli altri, perché comunque usciva dal recinto del Parlamento e del cortiletto. Chiaro che nel 2000 presentò 18 referendum liberisti, come sono stati definiti da loro stessi, liberisti contro la magistratura, contro il sindacato, ricordiamo che ha già chiesto l'abrogazione dell'articolo 18, però questi referendum secondo me non hanno oscurato nel percorso di questa vicenda politica di Pannella le grandi battaglie libertarie degli anni 70 sull'aborto e sul divorzio soprattutto. Quindi direi che il giudizio su Pannella o un politico resta positivo. Non so cosa ne pensi tu, ma comunque è difficile trovare un altro bombo politico che poi comunque ha sempre dato l'impressione di essere uno comunque libero, che diceva quello che pensava, che non ha mai fatto calcoli, che appunto ci dimentichiamo quell'alleanza con Berlusconi, non vogliamo neanche più sapere le ragioni che potevano essere quelle di salvare la radio radicale con i soldi di Berlusconi oppure portare Emma Bonino alla Presidenza della Repubblica, poi era stata poi quella abbastanza una bufala da parte di Berlusconi, che pare che l'avesse promessa, ma poi nulla è successo. In ogni caso Pannella comunque ha sempre garantito un'indipendenza totale della politica dal Vaticano e dalla Chiesa che invece quasi tutti gli altri non hanno minimamente la forza di garantire. Dunque, visto che mi inviti, io mi butto subito naturalmente nel solco. Condivido molto le cose che hai detto, soprattutto nei distingo rispetto a dei punti di riferimento che per la sinistra sono stati importanti. Io però proprio a proposito della sinistra, un elemento lo metterei in luce, perché Pannella, lo ricordo negli anni 70, le grandi speranze che aveva acceso proprio in quel movimento di ribellione, di scontro con il potere vaticano, con il potere sostanzialmente clerico fascista e democristiano. Dunque, formò e si mise in luce, anzi mise in luce lui stesso un nuovo ruolo della politica che da una parte era molto vicina alle istanze di base, alle istanze dei cittadini. Su questo lui non ha mai cambiato direzione, c'è da dire. E dall'altra aveva intuito che la cultura antagonista, diciamo così, libertaria e di sinistra aveva bisogno di un nuovo leader, e cioè fuori dallo stampo comunista che poi alla fine era molto burocratizzato, molto preso dentro un meccanismo di partito. E la sinistra, lo voglio sottolineare, non è andata oltre quella figura lì di leader. E Pannella aveva capito che la modernità stava bussando alle porte. Per la sinistra credo che sia stata un'occasione persa, ma non Pannella, chiaramente. E cioè la lezione che ha cercato di dare proprio sul leader politico. Tant'è che poi il suo insegnamento ha permesso la costruzione di un vivaio importante perché da lì sono usciti uomini politici e poi distribuiti un po' dappertutto. Lo stesso Giacchetti, oppure non so, vogliamo parlare di Rutelli, di Della Vedova, di tanti personaggi politici che poi hanno fatto strada con le proprie gambe. Mettendo in contraddizione, lo voglio dire, nel caso di Rutelli, le scelte radicali giovanili. L'altro elemento è che la morte di un grande personaggio, di solito una cartina di tornasole, soprattutto se letta con l'opinione pubblica, con la stampa, diciamo così, che troviamo oggi, si tende a privilegiare questa caratura rendendo omaggio ad un uomo e dimenticando però alcuni elementi fortemente eversivi della sua biografia politica che in qualche modo hanno fatto bene all'Italia. Perché appunto quel liderismo lì poi era la reale alternativa anche per un centrodestra che invece poi alla fine ha scelto un liderismo bieco, populista e del tutto inconcludente. Sì, sì, è stato un liberale di sinistra, forse qualcuno l'ha scambiato per un uomo di sinistra, ma era un liberale, cioè lui veniva dal partito liberale, uscì dal partito liberale, fondò il partito radicale e incominciò a parlare appunto di temi libertari. Con l'età si spostò un po' su temi invece purtroppo liberisti più che libertari, però non dobbiamo assimilarlo alla sinistra, nel senso lui era uno che ha indicato appunto i temi alla sinistra e come dice giustamente, la sinistra poi non ha raccolto fino in fondo i temi che dicevamo prima dei diritti civili, che è stata quindi un'occasione mancata per la sinistra, per la crescita della sinistra. La seconda cosa che era importante, almeno questa settimana che si è rivelato importante, è l'individuato questo flop clamoroso del Jobs Act sancito dallo stesso IMSS, cioè dopo 14 miliardi di incentivi pubblici vediamo che la montagna ha partorito il topolino, cioè il topolino è un topolino gigante perché è quello del voucher, che è poi come abbiamo detto in altre trasmissioni una sorta di caporalato legalizzato che tra l'altro non fa neanche emergere del tutto il nero, mentre i contratti a tempo indeterminato che si diceva saranno sicuramente sottoscritti perché sono i vantaggi contributivi. Nel primo trimestre del 2016 sono crollati del 33% sul primo trimestre del 2015, cioè 162 mila contratti in meno, così come è sceso anche del 31% il numero delle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Grazie. 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 Il terzo argomento è che la Corte Europea di Strasburgo ha messo sotto processo, ha aperto un procedimento contro l'Italia perché accusando lo Stato italiano di non aver protetto la salute dei cittadini di Taranto sull'IVA nella fetta di specie i 182 residenti che hanno che si sono visti accogliere il loro ricorso dalla Corte Europea l'accusa all'Italia di non aver bloccato l'impianto nonostante le varie le prove molteplici dell'inquinamento della nocività di quell'attività produttiva, anzi con vari decreti che cosiddetti salvailba come ricorderai hanno promosso l'attività produttiva e incentivato l'attività produttiva che cosa c'è da dire? Che si muove l'Europa, si muove la magistratura italiana perché sappiamo che è partito il maxiprocesso contro 47 imputati tra cui i fratelli Riva, l'ex governatore della regione Vendola, il sindaco di Taranto il presidente della provincia ecco si muove la magistratura si muove l'Europa ma non si muove mai la politica e questo è una volta scorsa del caso ThyssenKrupp non vorremmo che ce ne presentasse un altro invece nel sud sì io credo che questa vicenda dell'ILVA sia davvero una cartina di tornasole che inchioda in qualche modo il governo Renzi che quando parla di economia preferisce affidare le sue performance a cose del tutto fatue come il Jobs Act che tu hai appena citato e non parlare di sostanza e cioè la vicenda dell'ILVA che andava presa appunto seriamente e in tutta la sua portata e invece si è decisa una tattica dilatoria che di fatto ci sta consegnando come testimonia la vicenda europea al giudizio severo dell'Europa che per quanto riguarda la salute le malattie la nocività nel lavoro e nel consumo diciamo così nel mercato è sempre molto attenta io vorrei ricordare qui la vicenda del glisofato che tuttora è un argomento molto molto dibattuto la l'ILVA è una vicenda sicuramente molto complessa che tra l'altro il governo sta risolvendo in questa sorta di privatizzazione che non sarà non sarà facile sarà molto dolorosa al contrario e affidando poi a non si sa bene quale gruppo privato la gestione di un patrimonio enorme di grandi potenzialità tra l'altro anche se il mercato dell'acciaio in questo momento sta attraversando notevoli difficoltà bene allora se tu hai finito con la rassegna degli argomenti settimanali io chiuderei qui questo spazio va bene va bene e un arrivederci quindi a lunedì prossimo ancora con Riccardo di